I nuovi dati diffusi dal CNR sulla diffusione del gioco d'azzardo confermano quanto vediamo con i nostri occhi quotidianamente nei luoghi debutati a questo genere di intrattenimento. Se per molti si tratta di un innocuo passatempo, per una percentuale sempre maggiore di persone si rischia la patologia. Due nuovi studi dell'Istituto di Fisiologia Clinica del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Pisa rivelano che in Italia il gioco d'azzardo cala tra i giovani ma si registra un vero e proprio boom tra gli adulti. Il dato che però deve preoccupare è un altro, ovvero quello relativo ai cosiddetti giocatori problematici, quelli cioè a rischio patologico. La percentuale di questi giocatori in erba infatti, se fa registrare una diminuzione o un assestamento al centro-nord, si incrementa nella macroarea sud-isole. Secondo il CNR dunque, a rischio di sviluppare problematicità al gioco sono coloro in cerca di prima occupazione e gli studenti, molti dei quali ignorano che è illegale giocare per i minorenni. Del resto, la facilità di accesso ai luoghi di gioco da parte degli under 18 è confermata da un dato. Solo il 27% riferisce di aver avuto problemi a giocare in luoghi pubblici perché minorenne.